Atenendomi ai tempi ristretti abbiamo approvato oggi nell'ambito del decreto articolo 10 e 11 due interventi che permettono di ristorare le imprese colpite dalla Peronospora e quindi le aziende vitivinicole con un primo intervento di un milione e invece interveniamo sul settore della pesca per cercare di alleviare le criticità indotte quest'anno da una proliferazione esponenziale del granchio blu che è un granchio particolarmente aggressivo che è giunto da altri mari nel Mediterraneo, in particolare nell'Adriatico ma anche con presenze nel Tirreno. Queste criticità ovviamente prevedono lo smaltimento di questo animale e avevano dei costi sulle aziende e poi altri interventi che stiamo strutturando per creare una condizione di filiera che metta nei prossimi anni in termini strategici al riparo da una evoluzione ancora più rischiosa di questo animale. Abbiamo approvato nel Consiglio dei Ministri anche un'altra norma che io ritengo importante un disegno di legge per conferire un premio che abilita anche all'insegnamento se dovesse passare nel Parlamento, ovviamente sovrano in quest'ottica gli artigiani che si occupano di pasticceria, gelateria, cucina, settore olivicolo e vinificazione per conferirgli un titolo che gli renda un riconoscimento da parte del Governo rispetto alla loro qualità. Ultimo, la riorganizzazione del Ministero della Sovranità Alimentare che in linea con il cambio di denominazione cambia anche la sua struttura interna per poter essere conforme agli indirizzi che abbiamo voluto dare. Grazie 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 Grazie